santa veronica giuliani avvicinandoci l'esperienza terrena di santa veronica giuliani la cosa che più ci sorprende è quella di scoprirla una persona come noi vicina alla nostra esperienza di creature fragili e imperfette forse questa affermazione a qualcuno sembrerà un paradosso ma immergerci nella lettura del suo diario fino alle prime pagine che narrano la sua infanzia è un po come ritrovare qualcosa di noi stessi a soli 17 anni orsola questo è il suo nome di battesimo diventa sor veronica entrando nel monastero del capuccino di santa chiara a città di castello monastero che oggi porta il suo nome per obbedienza al suo confessore poi al vescovo lì ella ricorda gli anni dell'infanzia la sua vocazione che sembra essere nata con lei descrive minuziosamente i suoi colloqui con dio e con la madonna ogni giorno registra fedelmente ciò che vive nell'intimità del giardino chiuso della clausura conventuale le prove e le aridità di spirito le sofferenze fisiche interiori l'infinita varietà di esperienze mistiche che passando attraverso la stigmatizzazione culminano nello sposalizio celeste il silenzio rigoroso della regola cappuccina è il fondamento necessario della sua vita di preghiera e in lei diviene ascolto di dio che lei parla applicazione prima rapimento poi unione trasformante dio fa con l'anima mia come il ferro con la calamita procedendo nella lettura del diario ci succederà di affezionarci a tal punto a veronica da farne la nostra compagna di viaggio amica e confidente guida e maestra in una vita che sarà poco poco sempre più trasfigurata sofferta sì ma offerta nella gioia nella pace nell'abbandono incondizionato alla sapienza e misericordia di dio a maggior gloria di dio e per adempiere il suo santo volere con mia mortificazione rossore incomincio dunque a mettere in esecuzione il comando che mi impone in virtù di santa obbedienza di manifestarvi i principi della mia vita capitolo primo l'infanzia da piccola tutti mi chiamavano fuoco così a cinque anni a chi faceva un dispetto a chi un altro non so cosa vi fosse penso venisse dalla bontà delle mie sorelle perché più le crociavo infortunavo più bene mi volevano non solo loro ma tutti di casa io ero di proprio capo e come volevo una cosa non mi quietavo mai finché non l'avevo vinta ero la più piccola ma volevo stare sopra tutte e a tutte volevo che facessero a mio modo e in effetti mi contentavano in tutto orsola nasce a mercatello sul metauro il 28 dicembre 1660 è graziosissima capelli biondi grandi occhi azzurri profondi e penetranti un viso perfetto dolcissimo di allineamenti delicati e quando ride le vengono le fossette nelle gote il suo carattere vivace riempie di gioia di vita tutta la casa ci diverte ci consola sapere che anche la santa la bambina gioca ride piange si arrabbia e vive tra i contrasti del suo carattere irruente e dalle inclinazioni naturali anche se decisamente orientate verso un unico interesse dio il mio vivere era il mangiare il bere il dormire il lavoro tutto quel poco quel tempo che avevo tutto lo mettevo nel fare gli altarini bensì godevo che tutte le mie sorelle vi venissero a fare l'orazione e anch'io mi mettevo farla con loro benché non facevo niente solo stavo in loro compagnia orsola ama moltissimo la sua famiglia le sue sorelle specialmente dopo aver perso la mamma benedetta solo sei anni ultimo genita di sette figlie in casa è il centro dell'attenzione di tutti soprattutto del papà francesco che l'ama con predilizione nostro padre poi voleva che io andassi più ad orna delle altre e bene spesso mi portava quando una vanità e quando un'altra mi voleva tanto bene come stava in casa sempre mi voleva presso di sé tutto ciò io gradivo è normale che anche lei crescendo senta il fascino sottile delle cose di questo mondo è bella elegante simpaticissima facoltosa con una carica affettiva a di sopra della normalità consapevole di valere affascinante piena di corteggiatori insomma veronica ci conquista perché è così incredibilmente umana ma proprio entrando in confidenza con questa donna nonostante tutto vicina alla nostra quotidianità ci sorprendiamo ancora di più nel constatare la singolarità degli interventi divini delle grazie ordinarie e straordinarie che usando le sue parole hanno diruviato nella sua vita conoscendo veronica ci troviamo di fronte al mistero dell'uomo e di dio al grande mistero dell'amore immenso di dio e per l'umanità